Il ministro Fai, fanno un grande lavoro. La Lega lancia l'alto là alle voglie di centro. Non è piaciuto al ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta gli accuse lanciato da Matteo Salvini contro la stragrande maggioranza dei parlamentari che pensa solo alla propria ricandidatura e non agli interessi del paese. L'Italia ha bisogno di visione, bisogna guardare un po' oltre, al medio-lungo periodo. È chiaro, invece, che la stragrande maggioranza dei parlamentari attualmente ha come unico orizzonte temporale il proprio collegio a marzo 2023. Non puoi pretendere che ci siano orizzonti più lontani. Ma noi siamo un po' visionari ed estranei ai riti della politica to court, dice il leader della Lega. Dalla mia esperienza di questi otto mesi di governo non posso che dare un giudizio straordinariamente positivo del lavoro dei parlamentari tutti, sia di maggioranza che di opposizione. Replica Brunetta. Dall'inizio della legislatura il Parlamento ha lavorato senza un attimo di tregua. Basti pensare a tutti i provvedimenti approvati durante il Conte I e il Conte II con particolare riferimento a quelli del periodo pandemico. Un lavoro straordinario, che è proseguito con il governo Draghi. Eppure anche nel recente vertice di centrodestra di governo a Villa Grande, Silvio Berlusconi aveva cercato di tenere unite le varie anime della coalizione scacciando le polemiche o gli sfilacciamenti a seguito delle deludenti amministrative. Però Salvini riaccende la miccia e Brunetta. Non ci sta tutti i decreti legge. Tutta l'attività del governo è stata dal Parlamento recepita e valorizzata con grande senso di responsabilità e con grande qualità. Tutto ciò grazie al lavoro, lo ripeto ancora una volta, di tutti i parlamentari, che, evidentemente, si preoccupano più della loro responsabilità nei confronti del Paese, che del loro seggio. Ma c'è un'altra questione che accende il dibattito interno al centrodestra. Salvini ieri ha difeso a spada Tratta il maggioritario, scagliandosi contro il sentimento filoproporzionale e di centro che serpeggia in parte del centrodestra. Salvini dice di aver sollecitato Berlusconi a tenere ferma la posizione sul maggioritario, mettendo in guardia dalle manovre centriste che potrebbero puntare al proporzionale per rendersi autonomi dagli alleati. La voglia di proporzionale, di confusione e di mandare la palla in tribuna da parte di qualcuno c'è. Mi riferisco ai grandi centri, ai centroni, ai centrini e ai centretti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!